Abbiamo un altro quiz sul calcio che parte così Chi è la più forte di Milano? Milano o Inter? Risposta scontata Non ci possono essere dubbi Milano infatti è giusta Neymar o Lewandowski? Dico Neymar Chi vincerà la Champions League? Manchester City o Neymar? Ma lo sanno che il Napoli è uscito I più forti sono usciti Vabbè dai City ragazzi Cosa appena? No! No 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 Ma lo sanno che il Napoli è uscito Lo sanno? Quaro leao leao Cosa? 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 Chi è il più scarso titolare nella Juve? Titolare non è neanche un titolare Ken? Cosa ho appena visto?